E' stato accoltellato la gola e poi gettato in un fosso. E' successo a Sulmona, la vittima è Sadio Camera, un 27enne senegalesi ospite del centro di accoglienza di Pettorano sul Gizio. Il 27enne stava tornando nel centro di accoglienza per una strada di campagna, quando è stato affrontato da due individui. Prima lo hanno malmenato, poi lo hanno accoltellato vicino alla carotide facendo perderli sensi e infine, probabilmente credendolo morto, lo hanno gettato in un fosso. Ma il senegalese, che tra l'altro è un attivista dell'associazione Ubuntu a tutela dei diritti dei migranti, non era morto. Alcune ore dopo ha aperto gli occhi, ha risalito la scarpata e sanguinante è tornato al centro di accoglienza dove ha chiesto aiuto. Credo che il presidente della regione dovrebbe andare all'ospedale a portargli la solidarietà della comunità abruzzese, a dirgli che gli abruzzesi non sono come questi barbari che vanno isolati e tutti dovrebbero condannare, soprattutto quei partiti che sono responsabili di questo clima che si è creato in Italia. A Sadio va tutta la mia solidarietà, la solidarietà di rifondazione comunista. È stato portato prima all'ospedale di Sulmona, poi a quello di Avezzano e dopo a Pescara dove è stato operato d'urgenza. Ti insegniamo noi a campare, gli avrebbero detto gli aggressori prima di accoltellarlo. Un caso analogo era già avvenuto un anno fa al centro immigrati di Sulmona, quando un 23enne del Gambia fu aggredito per motivi razziali. Pochi giorni fa, per quell'episodio, un 47enne originario di Arezzo è stato condannato a sei anni di reclusione. Nella Repubblica Italiana qualcuno viene eletto a ricoprire una carica di rappresentanza di tutti, deve rappresentare tutti. E poi io credo che sia fondamentale chiedere che le istituzioni assumano una posizione netta, perché il Presidente della Regione in questo momento rappresenta tutti gli abruzzesi, non solo quelli che si esaltano vedendo la scritta Dux a Villa Santa Maria.